Si era fatto il suo nome come commissario della sanità in Calabria, stiamo parlando del fondatore di Emergency Gino Strada, un nome caldeggiato direttamente dal presidente della commissione antimafia e del senatore del Movimento 5 Stelle eletto in Calabria, Nicola Morra, e caldeggiato da alcuni esponenti grillini calabresi, ma che ha trovato numerose resistenze all'interno del governo, nonostante gli annunci del presidente Conte dichiaratosi disposto ad incontrare lo stesso Strada. Insomma, una proposta che ha creato non poche fibrillazioni. Una volta però tramontata l'idea di una sua nomina commissario della sanità, ad ogni modo in Calabria Gino Strada avrà un ruolo. Emergency in questo specifico momento darà una mano per gli ospedali da campo e nelle operazioni di tracciamento ed avrebbe già firmato un accordo con la protezione civile, un ruolo che ha cercato di spiegare lo stesso ministro Boccia nel corso della sua visita in Calabria. È un rapporto importante, ringrazio Gino Strada e Emergency per aver dato la loro disponibilità, fanno già un lavoro eccezionale a Milano. In Calabria già ci sono per attività che già facevano e grazie alla loro rete, alla protezione civile, il capo della protezione civile Borrelli è in contatto continuo, riusciremo ad intervenire anche con medici, operatori e con un modello di intervento per gli ospedali da campo che ci potrà essere solo utile. Quando si mettono insieme le forze migliori del paese come le forze armate, le forze dell'ordine che fanno più lavori in uno per starci accanto, come gli operatori sanitari, tutte le reti che ci aiutano a migliorare le condizioni sono ben accette. Per questo ho ringraziato Gino Strada e Emergency per il lavoro che già fanno e che continueranno a fare.